Alta pressione nel fine settimana sulla regione garantirà tempo stabile e anche probabilmente temperature in aumento. Nel dettaglio per la giornata di sabato avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche velatura ad alta quota, temperature massime intorno ai 20-22 gradi in pianura, 18-20 sulla costa dove avremo venti di brezza, zero termico a 2800 metri per cui le temperature saranno relativamente alte anche in montagna. Per quanto riguarda domenica cielo sereno sotto la regione con venti di brezza che manterranno ancora le temperature massime più basse sulla costa rispetto alla pianura dove toccheranno i 23-24 gradi. Nel mattino di domenica è possibile che su bassa pianura e costa vi sia qualche nebbia che poi in mattinata si dissolverà. In montagna ancora temperature miti con zero termico intorno ai 2500 metri. Per inizio della prossima settimana cielo ancora poco nuvoloso lunedì ma poi il tempo peggiorerà ed è probabile che da metà settimana arrivino precipitazioni su tutta la regione. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.